Ben ritrovati a tutti ragazzi sul canale dei Folle Mente Scacchisti, io sono Silvio La Licca e oggi in questo nuovo video giocherò contro Betarmon nella versione appunto di chess.com come vedete ci sono varie Betarmon, iniziamo con quella di 8 anni, con la Betarmon di 8 anni poi si va a salire fino appunto alla Betarmon campionessa del mondo ragazzi quindi iniziamo, ma come sempre in tutto questo per iniziare via con la sigla allora ragazzi iniziamo quindi queste partite contro Betarmon, in questa prima partita giocheremo contro Betarmon a 8 anni quindi presumiamo che insomma sia abbastanza facile vincere contro la bambina anche se vediamo cosa fa, ok abbiamo giocato E4, quindi lei ha risposto con C6 a difesa Karokhan quindi ora possiamo giocare varie mosse, ok proseguiamo con D4, ok lei gioca D5 vediamo un po' come prosegue sulla variante classica, se decide di catturare non cattura, piuttosto decide di difendere questa è una mossa un po' passiva però comunque solida, si può giocare, noi sviluppiamo tutti i pezzi e... beh per ora stiamo tranquilli, ok ora da scacco noi giochiamo semplicemente una mossa di... per attaccare l'alfiere continuiamo il nostro sviluppo con alfiere D3 come vedete sembra abbastanza tranquilla da per ora la posizione pensavo di poter sacrificare qualche qualche pedone però per il momento vediamo un po' su H4 cosa fa F5 interessante giochiamo questa per sfizio, vediamo cosa fa donna D6, donna E2 proseguiamo un po' con l'attacco sui pezzi a quanto pare niente, ancora non Betarmon gioca solido, per avere solo... ok Re F8, Re Re 8, la prima mossa da computer incomprensibile quindi vediamo un po' cosa si... cosa... ok questa è strana F3 C4 si può giocare per attaccare ancora di più il pedone in E6 che ragazzi ora si può catturare il pedone in E6 ok ci ha regalato un pezzo grazie noi ce lo prendiamo vediamo un po' cosa... ok gioca a B6 ragazzi come vedete il computer risponde in modo abbastanza veloce presumiamo che più si va avanti con l'età più poi Betarmon gioca un po' più calmo un po' più... come dire... senza muoveri pezzi a caso ecco, perché ora c'è scacco quanto pare si rende conto dello scacco come avete visto nella serie tv Betarmon all'inizio non... non sa neanche che cos'è lo scacco infatti il maestro Shyball gli fa appunto scacco matto in poco tempo che qui sembra quasi finita ok possiamo anche catturare qui ora scacco e... c'è ragazzi matto alla prossima anzi ok ora così e ora vedete cavallo F6 ora... dopo donna per F6 ragazzi abbiamo vinto contro Betarmon a 8 anni quindi come... che cosa dire di questa partita ragazzi semplicemente che come vedete una Betarmon agli inizi sa muovere i pezzi essenzialmente però non... non ha ancora compreso bene il re le funzioni del re e come potete vedere infatti in poco tempo mette in presa vari pezzi cosa che non bisogna fare ragazzi non mettete mai pezzi in presa e poi come vedete si può vedete facilmente vincere contro Betarmon a 8 anni semplice il concetto insomma vedete che abbiamo... siamo riusciti a dare scacco matto abbastanza velocemente ok proseguiamo quindi ora con Betarmon a 9 anni quindi 1200 punti elo quindi vediamo un poco giochiamo sempre i 4 ragazzi bisogna giocare aggressivi e vediamo un poco cosa ci propone Betarmon questa volta ok cavallo C6 difesa Ninzovic non è molto comune come idea l'idea di questa mossa è provare a giocare D5 e contraattaccare in questo modo quindi io direi giochiamo cavallo C3 impediamo D5 vediamo cosa fa ok E5 giustamente ok noi finalmente gambettiamo un pedone Betarmon non accetta il pedone va bene noi proseguiamo con lo sviluppo cattura questo pedone grazie ok giochiamo D4 lo difende difende il pedone però non si accorge che forse E5 è un errore c'è un attacco su due pezzi ok ora però possiamo giocare a fiere 2 e c'è un attacco appunto sul caro alfiere almeno ok semplicemente sviluppiamo i pezzi ragazzi attacchiamo 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 ok questo è un altro errore probabilmente cavallo D5 si minaccia il doppio in C7 scacco e prendiamo anche la torre in A8 che alfiere D3 si minaccia torre 1 si attacca anche donne 2 semplicemente donne 6 donne 6 è sensata è sensata vabbè torre 1 l'idea è donne F2 ragazzi quindi ok inchiodatura e ora Betarmon perde anche la donna mi è piaciuto onestamente più come ha giocato a 8 anni però sarà è un mio comunque parliamo di un computer quindi è difficile valutare bene la forza di gioco quando appunto il livello è molto basso per il momento il livello è abbastanza basso quindi possiamo tranquillamente dire che non c'è molta differenza tra Betarmon a 8 anni e Betarmon a 9 anni noi stiamo continuando a muovere un pochi pezzi ok in questi casi tanto vale cambiare i pezzi e vincere nel nel finale anche perché abbiamo comunque una donna in più non è che c'è molto da dire attacchiamo anche il cavallo lei giustamente difende il cavallo noi lo riattacchiamo vediamo un po' cosa fa penso lo porterà indietro ok lo porto indietro giustamente ok noi attacchiamo con H4 ragazzi e niente minacciamo scacchi e entrate di varia natura ok minacciamo anche di catturare il il petonino 6 e come vedete c'è una costante costante pressione lungo anche la diagonale ok ora c'è un petone in presa in D5 abbastanza chiaro ottima mossa H5 ragazzi questa è una bella mossa il concetto è che noi volevamo andare con la donna in H5 lei ha giocato H5 appunto per evitare l'attacco quindi iniziamo anche un po' a vedere quindi anche che riesce a difendere meglio il re va bene non si prende niente non prende niente betarmon vabbè io ho questo oh 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 errore da parte mia ragazzi per velocità ho perso la donna e vai e niente vabbè a questo punto vediamo un poco come gioca il finale di torri la nostra cara betarmon ora noi addirittura vogliamo giocare il finale di petoni lei non accetta scacco ci prendiamo un altro petone e va bene a questo punto basta semplicemente giocare con il re ragazzi i concetti del finale come vedete è abbastanza chiaro e va bene va bene va bene spingiamo un po' che i petoni spingiamo un po' che i petoni tutti quanti spingiamoli tutti spingiamoli tutti e vediamo cosa cosa ci dice bet bet a quanto pare sembra contenta di giocare a questa posizione vabbè comunque ragazzi il computer non di norma non si arrende mai dovete appunto provare a vincere sempre a dare scacco matto se non ci riuscite dovete comunque ricordare che per pareggiare col computer bisogna per forza fare la triplice ripetizione non penso e poi ho al massimo lo stallo non esistono non esistono per esempio anzi neanche la triplice ripetizione molte volte viene considerata questa è una cosa che infatti non è molto gradita per chi gioca appunto contro un computer ok ci stiamo avvicinando al matto quindi che dire vediamo cosa cosa gioca bet ok a questo punto l'abbiamo ridotta nella totale passività e ora non ci resta che far altro che appunto spingere il il pedone a promozione a questo punto matto e quindi niente siamo riusciti a vincere anche contro bettarmone a 9 anni ho posto una resistenza decisamente maggiore anche grazie a un errore che appunto ho dato la regina però stiamo abbiamo giocato comunque tutto sommato aggressivi e come vedete bettarmone qui ha regalato un pezzo in apertura quindi comunque ancora troppo presto per dire se non c'è troppa differenza comunque per ora tra bettarmone a 8 e a 9 anni continuiamo allora quindi la nostra battaglia contro bett e questa volta giochiamo contro bettarmone a 10 anni come vedete c'è un leggero aumento del punteggio da 1200 a 1600 puntiello quindi partiamo già quindi con una una giocatrice che si sta affermando 1600 punti e un ottimo punteggio ovviamente noi siamo fallemente scacchisti e quindi comunque giochiamo per attaccare quindi niente da aggiungere ok bettarmone gioca la siciliana quindi c5 a questo punto noi proseguiamo con il gambetto morra e dobbiamo gambettare perché altrimenti ragazzi noi non non siamo veri giocatori ok bettarmone decide di non di non accettare il pedone però io sono quasi tentato da fare lo stesso di gambettarlo non voglio giocare la variante 5 perché è abbastanza teorica non penso che bett la conosca bene però comunque vediamo cosa fa su alfieri di 3 onestamente vorrei capire qual è la sua idea su questa su questa cosa ok 5 interessante difende il pedone noi attacchiamo attacchiamo il pedone al centro ok cavallo c6 un'ottima risorsa sviluppiamo un po' che i pezzi vediamo un po' cosa si dice d5 ragazzi d5 un'ottima mossa il concetto è che se catturiamo poi ci sono sempre potenziali minacce anche dei 4 non in questo caso ancora perché c'è il problema della della colonna aperta infatti a questo punto direi che abbiamo quanto meno raggiunto la parità vediamo un po' vediamo un po' sembra che questa sia una mossa buona non ha deciso di catturare quindi a questo punto direi proseguiamo con la cattura in c6 e minacciamo anche donna f3 come vedi la fiera non può ancora andare in d5 perché comunque è tutto abbastanza inchiodato ok quindi su donna per d5 lei vuole prendere con con il cavallo bah che dire che dire prendiamo vediamo un po' questo finale che ne deriva finalmente recuperiamo no aspetta ora abbiamo un pedone in più perché abbiamo sì abbiamo un pedone in più non conta tantissimo in questo momento la cosa però ci può sempre servire ok ora a questo punto c'è un attacco lungo e6 c'è un problema che riguarda essenzialmente c2 perché ora betarmon minaccia cavallo c2 e cavallo d3 infatti non penso di aver giocato proprio al meglio questa sequenza di mosse però abbiamo abbiamo come idea anche cavallo a3 che difende c2 giustamente giustamente bet decide di giocare cavallo d3 con una mossa sensata onestamente non sono molto invogliato a prendere questo pedone anche se penso sia una delle poche mosse che si possa giocare senza troppi problemi quindi a questo punto prendiamole e basta e vediamo cosa fa bet ok a questo punto a questo punto sembra quasi obbligata sembra quasi obbligata la mossa di cavallo anche se dobbiamo considerare le conseguenze di torre per d4 però vabbè cominciamo come vedete cominciamo ad avere i primi problemi contro una giocatrice che si sta appunto affermando quindi è normale pure che andiamo un po' in difficoltà ok il re d7 attacca la torre essenzialmente quindi noi semplicemente la dobbiamo portare indietro aspettiamo tempi migliori insomma ok a questo punto bet si decide di accontentarsi di non capisco perché ha giocato così onestamente non l'ho capito molto bene cioè non ha mai catturato il pedone ha sempre giocato per l'iniziativa però non ha mai raggiunto quello che è un attacco vero e ora a questo punto ci siamo stabilizzati abbiamo due pedoni di vantaggio poi la vediamo dopo con calma questa partita però sembra che come dire la complessità della posizione ha impedito a bet di ottenere qualcosa a questo punto difendiamo il pedone in e3 abbiamo portato il re in una posizione più centrale a questo punto ora c'era un attacco su c6 e niente ora possiamo giocare anche torre c8 inchiodiamo l'alfiere e minacciamo appunto cavallo d6 sembra c'è cavallo c6 ragazzi attacchiamo la torre attacchiamo tutto in d8 e abbiamo i pedoni di vantaggio e la posizione è facilmente vinta per i follement scacchisti che si portano sul 3 a 0 per il momento grazie facile troppo facile così però voglio vedere quando appunto incontreremo Bet Harmon campionessa del mondo che servizio ci rifilerà Bet quindi va bene per ora giochiamo mosse comunque portiamo i pedoni alla promozione ragazzi come vedete una posizione abbastanza chiaramente vinta per il per il bianco che deve solo portare i pedoni a promozione e dare scalcomatto quanto prima quindi come vedete ok finalmente si sta pedocizzando un poco ok ora attenzione a evitare a evitare stalli ragazzi quando fate i pre-move dovete sempre stare attenti a evitare degli stalli però concettualmente parlando non ci dovrebbero essere troppi problemi insomma ecco anche a questo punto è matto a seguire ragazzi e anche questa partita è andata come vedete contro Bet Harmono 1600 punti c'è stata molta più resistenza è vero che abbiamo gambettato il pedone all'inizio con vedete il morra ho giocato questa linea a filo di 3 giusto per capire un poco quali sono le vere potenzialità di questa Bet Harmono 1600 punti come vedete difende il pedone quindi ragazzi già si inizia a vedere una una Bet Harmono che comprende meglio la posizione e niente come vedete qui a un certo punto però di 5 sembrava buona ma a quanto pare dopo torre 1 ci sono abbastanza problemi lungo la colonna e quindi questa cosa sicuramente ci ha agevolato nella nella partita a questo punto abbiamo recuperato il pedone al centro poi abbiamo catturato il cavallo in C6 come vedete si è creato un'altra debolezza il pedone D4 è debole donna F3 sembra una mossa abbastanza tranquilla di attacco donna D5 una mossa difensiva appropriata però arrivati a questo punto comunque si vede già che il bianco tutto sommato se ne è uscito tranquillo c'è ancora qualche problema lungo questi questi punti però a quanto pare siamo riusciti comunque dopo con due pedoni di vantaggio arrivati a questo punto a meno che cioè Beto qui poteva per esempio provare a fare questa cosa oppure magari catturare qui eh però queste cose qua queste qua sto facendo un video signore sei proprio un grande coglione va bene comunque e va bene va bene e in tutto questo scusate ragazzi per per l'introduzione di mio fratello e va buono niente comunque per quanto riguarda la partita come vedete abbiamo agevolmente vinto la partita con con ben tre pedoni in più quindi niente da aggiungere ok e e e vabbè ok ragazzi allora ci continuiamo con con Betarmon a niente da dire niente da aggiungere continuiamo con Betarmon a 15 anni con un bel punteggio di 1880 punti elo allora ragazzi continuiamo quindi E4 vediamo un poco cosa cosa ci propone Bet questa volta gioca E5 una mossa molto più classica noi io direi sinceramente gambettiamo gambettiamo lo stesso perché ok dann F6 è proprio strana come mossa non non voglio credere che che è una mossa normale da giocare in questa posizione per carità tutto si può fare però a questo punto giochiamo per il gambetto niente non accetta non accetta mai il gambetto Betarmon è proprio lo spirito fondamente scacchista che in Betarmon si vede anche da queste mosse Betarmon sta rischiando tanto comunque in questa posizione ok intanto sviluppiamo un altro pezzo che comunque di per sé non è mai una brutta cosa allora mo mi si minaccia donna per E4 perché come vedete c'è l'inchiodatura in in C3 noi difendiamo pubblicamente difendiamo questo caro pedone in E4 gioca giustamente di 5 perché noi in realtà minaccevamo anche questa spinta che cosa dire che cosa dire che dobbiamo un attimo calcolare però sembra sembra che dopo E5 semplicemente il bianco stia bene quindi niente da aggiungere a questo punto l'alfiere si può anche portare in D2 togliamo questo cavallo dalla l'inchiodatura fastidiosa arrocchiamo e la posizione che ne deriva è una posizione sicuramente favorevole per il momento per noi a questo punto continuiamo il nostro sviluppo dei pezzi ragazzi c'è un problema lungo C7 quindi attacchiamo un po' questa alfiere vediamo un po' dove può andare infatti non può andare da nessuna parte essenzialmente ora con torre per C3 donne 2 torre C1 si minaccia anche una pressione lungo questo punto ok ora lui lei sta cercando di attaccare D4 è una minaccia essenzialmente abbastanza chiara bisogna capire ora se difenderlo questo pezzi oppure continuare con con l'attacco lungo lungo C7 perché comunque alla fine di tutto questo comunque ci sarebbe un'iniziativa sembra senza da giocare a fiere 3 come mossa comunque per difendere D4 per avere una struttura stabile che ora donna C2 sembra una mossa buona minacciamo l'attacco lei non se ne importa niente lei continua ad attaccare come se niente fosse anche noi allora attacchiamo come se niente fosse lungo la colonna C e vediamo dove ci porta dove ci porta l'iniziativa a questo punto io direi torre C5 l'idea è cambiamo tutti i pezzi quanto prima ok lei giustamente gioca G4 però il concetto è sempre quello cambiamo tutti i pezzi e poi e poi vediamo perché ora D5 è in presa quindi bisogna capire un attimo cosa può fare perché ci sta anche H6 che è in presa quindi cavallo H4 attacco l'alfire e attacco anche H6 quindi bisogna solo stare attenti però giustamente a cavallo per D4 non è male non è male come cosa sono quasi tentato anche da sacrificare direttamente in C6 però sembra una una mossa eccessivamente brillante quindi evitiamo io direi più che altro G3 a questo punto facciamo questa cosa portiamo il cavallo un'altra volta in gioco e lo portiamo in F4 il concetto è appunto attaccare D5 altranza e vediamo un poco cosa si può fare ora a questo punto il cavallo si può forse anche portare direttamente in F6 dove appunto possiamo creare altri problemi il cavallo in F6 sembra un buon pezzo quindi portiamolo lì ora torre B5 attacca anche il pedone in B7 a questo punto però torre D8 è una mossa strana perché comunque lascia in presa D5 che cosa pensare che cosa pensare che potremmo pensare di catturare semplicemente il pedone oppure potremmo pensare di fare cavallo D7 quella è la vera domanda con l'idea di portare il cavallo in C5 secondo me posizionalmente parlando potrebbe essere anche più interessante ok ora questa mossa è strana io direi torre B4 senza troppo pensare ok ora un pedone è andato quindi questo qui ce lo possiamo prendere senza troppi problemi prendiamo anche la torre in A8 e a questo punto abbiamo Kf6 abbiamo un pedone in più per il momento e ok due pedoni in più quindi è una cosa ancora meglio di prima ci ha regalato un pedone quindi ringraziamo questa cosa e ora continuiamo con l'attacco lungo D5 a questo punto sembra abbastanza evidente l'attacco su su D5 quindi prendiamolo e basta anche se potrebbe giocare torre D8 ok no questa non è una mossa che ci crea troppi problemi ora lei vuole catturare in D5 con con l'alfiere però a questo punto possiamo semplicemente giocare torre C3 a questo punto l'unico problema vero che si potrebbe porre è come difendere questo pedone in H2 eventualmente se giocasse torre H8 noi giochiamo appunto alfile G5 con l'idea di portare l'alfiere in F6 e ora non può giocare torre H8 quindi questo pedone non è mai veramente sotto attacco lui vuole entrare lei vuole entrare in E4 quindi giochiamo torre 3 per difendere a questo punto portiamo il re via lo portiamo fuori da tutto questo da tutto questo e vediamo un po' cosa possiamo ottenere ok ok a questo punto dobbiamo giocare mosse un po' difensive perché comunque c'è una ragazzi c'è una pressione ok il fatto che ha cambiato in C3 ci agevola facilmente l'esistenza perché ora il re esce fuori e comunque vediamo penso che si può provare a vincere in questa posizione minacciamo anche H4 come idea quindi o anche H3 quindi H3 va bene lo giochiamo a questo punto Bet ci regala un altro pedone non ho capito perché poteva giocare anche a F3 di 1 però va bene a questo punto vediamo un po' cosa si può fare va bene niente ragazzi siamo semplicemente meglio in questa posizione ne abbiamo comunque pezzi pezzi abbastanza attivi l'unico problema è cercare di spingere i pedoni quindi io direi giochiamo per F4 a questo punto e minacciamo le spinte in G5 in G6 come vedete piano piano ce ne usciremo vittoriosi da tutto questo ok ora a questo punto E6 finalmente oserei dire abbiamo tantissimi pedoni in più di vantaggio quindi sembra evidente oramai la vittoria a questo punto Bet sembra sull'urlo della crisi e C4 scacco e attacchiamo togliamo di mezzo l'unico pedone che dava problemi ora difendiamoci anche a 3 difendiamoci anche quest'altro pedone vai vediamo un po' cosa ci dice Bet vabbè oramai i 3 pedoni di vantaggio sono più che sufficienti per vincere la partita concettualmente parlando è stato molto già è stato molto più difficile vincere contro Bet Harmon a 15 anni non è una passeggiata rispetto alle altre si vede comunque il miglioramento di forza non posso dire che sicuramente c'è una grande differenza rispetto a prima però sicuramente tra 1600 e 1880 c'è questo momento di 200 punti si vede si vede abbastanza evidente ok ora evitiamo lo stallo perché sinceramente ragazzi non non mi sembra proprio il caso ok a questo punto diamo uno scacco in G7 diamo uno scacco in D2 e poi diamo ok non ha voluto andare lì vabbè stessa cosa riusciremo a dare matto no si ok vabbè siamo arrivati a fare matto insomma ragazzi finalmente cos'è di dire ok quindi come dice Betharmon non ho mai perso un game seriamente prima d'ora giochiamo di nuovo no mi dispiace cara nel prossimo video ragazzi giocheremo contro Betharmon 2400 quindi immaginate proprio la botta di potenza che verrà dato a Betharmon nel prossimo video ci divertiremo ancora di più e sarà molto molto più difficile per me vincere la partita quindi ragazzi non perdete il secondo video di follemente scacchisti Silvio La Ricca contro Betharmon e spero che il video vi sia piaciuto e che abbiano trovato delle idee interessanti di attacco come nei gambetti che appunto abbiamo giocato contro Bet ragazzi come sempre lasciate un like iscrivetevi al canale io vi do un grosso abbraccio e ci vediamo nel prossimo video a presto iscrivetevi al canale Grazie a tutti